Bobby Axelrod di Billions ha più soldi e potere di quanto noi possiamo immaginare e questo non è dovuto solo al suo essere un buon investitore. Bobby, infatti, è anche un fantastico negoziatore, capace di ottenere tutto ciò che vuole dalle persone. Quindi in questo video ci occuperemo di 5 tattiche che Bobby usa in quasi tutte le negoziazioni e parleremo anche di come usarle per negoziare meglio, che sia al lavoro, nelle vostre relazioni romantiche o anche con gli amici. Il primo segreto del successo di Bobby è che riesce ad identificare quello di cui hanno bisogno le persone prima di negoziare con loro. Per esempio, guardate come negozia dopo aver inizialmente accettato di pagare a questa famiglia 25 milioni di dollari per il loro edificio. Si comporta in modo così sicuro da poter tagliare due terzi della sua offerta iniziale e ottenere comunque quello che vuole. AX si eleva con successo facendo le sue ricerche. E quando non riesce a scoprire da solo quello di cui qualcuno ha bisogno, deve solo chiedere, come fa qui? E' una cosa semplice da fare ma che molte persone non fanno. Invece, spesso, pensano che quelli con cui stanno negoziando vogliano le stesse cose che vorrebbero loro se fossero nei loro panni. Questo è un importante sbaglio, spesso compiuto da uno dei rivali di Bobby, Chuck. Guardatelo qui che cerca di ricattare uno degli impiegati di Bobby, minacciando di rivelare che sta tradendo sua moglie. Sfortunatamente per Chuck, comincia a negoziare prima di capire del tutto quello che conta per Bill. E questo gli si ritorce contro. Quindi, nella vostra vita, invece di indovinare quello che vuole l'altra persona, prendetevi il tempo per esserne sicuri. Per esempio, diciamo che vogliate più soldi. Invece di cercare di indovinare basta cosa vuole il vostro capo e rimuginare in silenzio su tutto ciò, chiedete un incontro con lui per fargli sapere che siete interessati ad un aumento. Poi, chiedeteli quali sia il tempo necessario per poterlo ottenere e quello che dovreste fare per guadagnarvelo. Potete persino cominciare chiedendo quanto è il tempo necessario per ottenere un aumento? E poi chiedere cosa dovrei fare per ottenere un aumento in modo più veloce? Così facendo, avrete dei veri obiettivi da raggiungere. E quando li raggiungerete, sarete in gran forma per poter negoziare per altri soldi. Tornando ad Axe, non appena capisce cosa vuole l'altra persona dalla negoziazione, usa il suo linguaggio fisico per manipolare le sue emozioni. Se vuole catturare l'attenzione di una stanza e far capire che lui è quello con il potere, si alzerà mentre gli altri staranno seduti. Questo obbligherà letteralmente le persone ad alzare lo sguardo per vederlo. Lo fa perché tendiamo a rispettare e a temere le persone che si impongono su di noi. Non è una coincidenza che gli amministratori delegati di Fortune 500 siano in media due centimetri e mezzo più alti di un uomo comune. Quindi, se state per fare una presentazione davanti a persone con un ruolo più importante del vostro, alzatevi. Quando le persone vi guardano dal basso in alto, fisicamente sentiranno inconsciamente la vostra posizione più forte e vi prenderanno più sul serio. Questo non significa però rimanere sempre in piedi. Infatti, se Axe è certo di avere l'attenzione di tutti senza aver bisogno di un vantaggio di altezza, si muoverà in modo da appoggiarsi da qualche parte, mentre gli altri staranno in piedi. Sedersi in questo modo, così rilassato, fa pensare che sia sicuro di sé e che non si senta minacciato. Allargarsi sul divano funziona per Bobby, perché in questo caso ha un pubblico interessato e disperato. Quindi può sedersi lì comodamente e lasciare che loro vadano da lui per sentire il suo discorso. Sistemarvi in questo modo ad un evento di network o ad una festa non avrebbe lo stesso effetto, perché senza un pubblico interessato, la persona che si siede mentre gli altri stanno in piedi, probabilmente verrà ignorata. Ora, anche se entrambe queste strategie hanno valore, sono da usare principalmente con gli avversari. Quindi, Axe ha una terza posizione da usare quando vuole fare in modo che qualcuno si senta come se fossero dalla stessa parte. Ed è infatti questa la posizione che dovreste usare più spesso. Lui si mette allo stesso livello visivo e al suo fianco, come qui con Wendy. Questo si chiama stessa parte, stessa squadra, ed è il modo migliore per gestire una negoziazione a due. Quindi, se notate qualcuno che si sporge verso di voi e cominciate a sentirvi a disagio, invitatelo a sedersi al vostro fianco o alzatevi per essere al suo livello. E questo potrebbe succedervi anche durante gli appuntamenti. Quello che dovete fare è o mettervi seduti l'uno accanto all'altro o sui lati vicini del tavolo. Dopo che Axe ha fatto le sue ricerche e impostato il tono della negoziazione con il suo linguaggio fisico, arriva il momento di trovare un accordo. Lui cerca di ottenere quanto più possibile dalle persone usando offerte esplosive, che creano del panico nell'altra persona. Se Axe desse il tempo alle persone di considerare le sue proposte, potrebbero avere la possibilità di andarsene e trovare opzioni migliori. Invece, lui limita la vostra attenzione solo su due cose, ottenere quello che cercate o perdere quella possibilità, pentendovene per sempre. Questo stile di negoziazione è estremamente efficace, lo vedete spesso in aziende che offrono posti di lavoro che scadono dopo 24 ore, così non avrete un'altra possibilità per trovare un altro lavoro. O persino nelle relazioni romantiche, quando qualcuno dice che smetterà di vedervi, a meno che non ottenga l'impegno che richiede. Ma questa tattica ha una controindicazione. L'altra persona potrebbe finire per avercela con voi a causa di questa pressione di tempo. Per quanto vi possa tentare, dovreste cercare di evitare di usare questa tattica. Otterrete dei sì da persone che non avrebbero accettato se non fossero state sotto pressione. E questi, purtroppo, non sono i tipi di accordi commerciali o relazioni che volete nella vostra vita. E il risultato è che potrete spaventare le persone buone perché a loro non piace il vostro stile aggressivo. Dal lato opposto, Axe non permette mai a nessuno di mettere delle pressioni di tempo su di lui per un accordo. Non importa quanto la situazione possa sembrare negativa, è sempre disposto ad andarsene dall'accordo, specialmente quando qualcuno cerca di cambiare i termini all'ultimo momento, perché credono di avere un vantaggio su di lui. Guardate cosa succede quando un investitore cerca di inserire qualcos'altro all'ultimo minuto. Axe è disposta a rinunciare all'unica offerta che ha e a scommettere su se stesso per trovare un'opzione migliore. Ecco un altro esempio in cui Chuck cerca di cambiare i termini dell'accordo con Axe. In entrambi gli esempi, l'altra persona crede di avere Axe nell'angolo e cerca di aggiungere una postilla nell'accordo all'ultimo minuto, dopo essersi già messi d'accordo. Questo è un grosso segnale d'avviso che dovrebbe spingervi immediatamente ad andarvene da una negoziazione. Se il nuovo accordo finisce con l'essere il migliore che potevate ottenere, potete sempre tornare indietro dopo aver avuto il tempo per gestire le vostre cose. Ora, nella vostra vita può essere davvero difficile farlo. Axe lo fa e se ne va con nulla. Quindi, ogni volta che è possibile, cercate di visualizzare più opzioni prima di entrare in una negoziazione. Detto ciò, un'altra mentalità importante che vi aiuterà un sacco nel lavoro e nella vostra vita personale è capire che ci sono opzioni disponibili infinite. Quindi, se mai vi sentirete bloccati nel trattare un'offerta che non vi accontenta davvero, ricordate che solo perché non avete visto la migliore offerta, non significa che non sia subito dietro l'angolo. Da un anno a questa parte, sarà molto più probabile che vi pentirete di aver accettato un cattivo accordo piuttosto che aver rifiutato una proposta. L'ultima cosa che Bobby porta ad ogni negoziazione è questa mentalità. Bobby vuole vincere e vuole farlo dando il meno possibile. Come quando ha ridotto la sua offerta da 25 a 9 milioni. Oppure in questo esempio divertente in cui negozia il compenso di un impiegato. Vale la pena notare che nel lungo termine questa tattica faccia del male a Dax, più che aiutarlo. Sì, potrebbe massimizzare i risultati nel breve periodo, ma la vita è lunga e si corre il rischio di offendere l'altra persona. Come fa lui con Taylor. Taylor aveva appena gestito il capitale di Hux per un anno e aveva fatturato 700 milioni di dollari. Sarebbe cambiato qualcosa se le avesse dato 50 milioni invece di 25? L'errore di Hux qui è pensare ad un gioco e basta. Sì, ottiene 25 milioni di dollari in più deludendo gli altri, ma si prepara anche all'essere eventualmente tradito dalla sua impiegata più importante. Sfortunatamente questo è il modo in cui molte persone pensano alle negoziazioni. cercano di ottenere i migliori termini possibili per se stessi in qualsiasi accordo, senza considerare se la persona in questione vorrà ancora lavorare con loro. Invece dovete pensare ad ogni negoziazione come ad un gioco interattivo. Ci saranno delle partite in futuro, quindi se potete ottenere di più nel lungo termine e dare di più nel breve, fatelo. Se volete approfondire il mondo della negoziazione, vi consiglio caldamente una lettura, Never Split the Difference di Chris Voss. Lui è un negoziatore di ostaggio internazionale per l'FBI e in questo libro racconta le sue strategie testate sul campo, che comunque vi possono sempre tornare utili anche al lavoro o in famiglia. Per finire ci tengo a ringraziarvi per aver visto questo video e per tutto il supporto che ci state dando costantemente. Ciao ragazzi, ci si vede nel prossimo video. Un abbraccio!